Nihon nihon ragazzi e benvenuti nel mio canale Io sono Kat for Fun e oggi facciamo il secondo capitolo di Life is Strange Before the Storm Ho ancora il mio ciuffo blu in onore della nostra Chloe Che ancora però non ci ha onorato dei suoi bellissimi capelli colorati Perché ancora siamo agli inizi ma è impudente Come sempre ci piace tantissimo Pallici su per il video e cominciamo subito Andiamo giù dalla mamma Ok si dai ci muoviamo Mamma non mi sgridare troppo Tavolo sto arrivando Vabbè andiamo Vediamo un po' che fatto ci sono Questi sono fatto scattate papaci Vabbè diamo un'occhiata al quotidiano Il figlio di Sam Prescott Nathan frequenta la mia stessa scuola Una mela non è caduta lontana Ok Ti ho pregiunto Non si dicono questo Ok va bene Siediti Aspetti la borsa qua Sì mamma Sì mamma dimmi Ok Sì certo Sì vero E cosa c'è Quindi Quando ti ho messo una messa di messa di tex Chloe Eh Eh E Adesso Cosa sono penna la pressione Stavo dormendo Ok esatto Stavo dormendo Di questo come parlare Della fiducia Cosa c'è che non va con David Siete sempre piede di guerra Perché non possiamo stare insieme Perché ci sta antipatica Va bene Andiamo Eh 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 ho capito Però Non siamo contenti Ma te l'hai chiesto tu Eh esatto Ma me l'hai chiesto tu Che te l'hai chiesto Sei esagerato Sì Lo odio Lo odio Sì Ma smettila Dai Ok Adesso vado a scuola Ah Sì Sì No è una cosa da stupidi Ma veramente abbiamo appena finito Ma dai E' un mangio Eh E tu Sì Dovresti ridere Dai Esatto Sa benissimo E che non sei tornata E non pensi che puoi andare da scuola Solo perché Hai perduto il bus Vabbè Vabbè Sì Tanto mi faccio Spellere comunque Tra molti bassi Dovresti rispetto Sento che si sta perdendo Eh lo so Poveria no Ma sciocchina Eh sì Eh In effetti Forse David potrebbe aiutare Esatto Esatto Vabbè Vabbè Insomma Un pochino Sì Dai Quello Comunque un po' sì Dovrebbe fare Papà era un bravo uomo Sì Era un bravo uomo Sì Sì Ah Accidente Eh Non so da che parte stare Sì Ma cosa Vabbè Ma che c'entra questo Ma no Non voglio essere Portato a scuola da lui Mi so antipatico Con il suo caratterino Ma ma Sì Sì Ci prova Sì Comprensiva Dai 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 Cerchiamo di essere Comprensivi Esatto Ok Oh Dai Siete carine Ok Ok Carina Ok David's waiting You'll need to bring him his keys from the Ashtray Try not to kill Va bene Dai 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 Chloe Hai appena provato Oh Brava Chloe Vabbè ma dai Esagerata I miei porti sono delle chiavi Sì lo so Però potrebbe essere D'aiuto anche Il livello economico Poi non è Una bocca attiva persona Alla fine Abbiamo scoperto Dove cavolo Abbiamo lasciate le chiavi Che non mi ricordo più Cos'è No La macchia di vino No 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 Eccone qua Prendiamo le chiavi Non mi ricordavo più Dove era apposta a cena Dai Esagerata Esagerata E così finalmente se ne andrà Va bene Leggi Lo difenderemo Va bene Ok Andiamo 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 Mamma Sei linta Come Ah io Vediamo un po' Ciao Chloe Qui Step Grinch Chi è Ciao Cosa vuoi Ho il tuo dvd Posso dartelo prima di scuola Grazie Andiamo A farci dare il dvd Da Step Grinch Giustamente Ma qualche amica Ce l'ha Dai Sei veramente esagerata Qui guarda Il corvo Questo qui guarda La macchina Noi se abbiamo Una facciata Dai Cerca di essere Un pelo Un pelo Più positiva Mi Tanto così Più positiva Dai Che sennò La mamma Se la prende con noi Oh my god Anche tu però Ok Cosa vuoi Non sono un Che Ma mamma Si è colpito da solo Con il Più 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 Mord No Ma non è insubordinazione Cioè Mi hanno picchiato Eh 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 Fatti Cioè Devo dire La verità Che dovresti Farti un po' I fatti tuoi Ok No Sì Ok Possiamo andare Oppure Hai rotto le scatole Che non ero Che non ero Che non ero pronta E poi Rompere le scatole Che devo prendergli gli attrezzi Però anche lui Che succede? Perché Perché devi lasciare Sto Che cosa Sì Eh È probabile Ciccino Cioè Non vorrei dire Ma succede Queste cose qua Quando Ok Cassetta degli attrezzi Apri Apriamo Filiamo Filiamo Quella roba lì Che cosa Dobbiamo Guarda Prendere Prendi Questa cosa Ok Facciamo Zero Va Facciamo che Non lo facciamo Però ho visto Delle foto Guarda Cosa sono Scatola con le cose Di papà Eh Sì Ma Allora Una parte posso capire Per carità Però Oddio Non so Se è giusto Nei confronti Di una figlia Togliere tutto Chiave a bus Dai di la chiave Grazie Prego Per favore Molto gentile Ah Che bello Un po' di positività Ragazzi Veramente Yeah Siete un po' più Allegri Sorrisa Po' darle Queen No Cioè Cioè Non ce ne frega Niente Non mi dire Senza quella Sarese anche brava In questo È vero Il superpotere Dell'insulto Va bene Oh Grazie David Batte il pugno Ok Vabbè Dai È stato carino Su 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 Ecco E me lo piazzi qua Esatto Ne abbiamo già una Perché ridi Ne abbiamo già una Non ce n'è bisogno Grazie Molto gentile Nessuno ti ha dato il permesso Eh per forza Eh Ignora Resisti Dai, facciamo la bella mamma Poi parli di qualcosa altro, dai Sì, ho capito Ho capito Possiamo andare? Perfetto Grazie È che viene detto dalla persona sbagliata Non ho voglia di avere menate da te No Non è difficile Dai, sei esagerata come al solito Questa è una borsa Guarda cos'è Questo Questo non è certo Ma è un sacco di tempo Perché avevo ancora Parliamo con lui, dai Alza il volume Dai Quando è successo l'incidente Cavolo Povero papà Ok Ciao, grazie Buona giornata È stato bello Mamma mia Grazie Oh Che vuoi Ti ho detto anche grazie Ciao Io ci sto anche provando Però, cioè Capisci Io ci sto seriamente provando A essere gentile con te Ma se continui così Ricomincerò ad essere antipatica Perché non ci posso fare niente Cioè Seriamente Oh my god Oh Vabbè Andiamo va Un cane Un cane Anche la acquetta La acquetta La acquetta non me la ricordavo Cos'è? Una fontana? Il palco Con ovviamente Non i concerti che piacciono a me Tutto Ah Questa volta non c'è una musica interessante Un pass Ah no È vero è vero che la statua centrale ha l'acqua sotto Oh C'è Un qualche Stai bene? Vabbè ma non ti preoccupare Che cosa? Sì Ma tutti? Mamma mia Chi è che c'è? Che sai? Hate haters Ehm Eh Già Ehm Ehm Sì Assolutamente Ehm Sarà ragazzissimo Ma che ne decidi di andarci insieme domani? Dove? Ehm Ci stai provando? Forse Mh Ehm Cioè 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 Sì 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 il tuo DVD. Ah, è carino! È carissima questa cosa! Potremmo essere un gioco senza polizzi e gli occhini. Benissimo, vabbè, guardiamo il poster dei Thompson. Ma dai, sembra carino! È una roba di teatro, non so. Ok, Steph, giusto. Sono ai tavoli da picnic, grazie di me. Meno male, perché sennò... Oh, c'è Victoria! Potremmo parlare con Victoria. Ciao, Victoria! Non sapevo che lo conoscesi. Chloe, infatti. Oh, certo. Sto parlando. La gente mi ha portato così seriosamente, se io ho vinto il Beacon's Young Artist Award per me. Lo devi dire a tutti, vero? Ma veramente stai facendo tutto da solo? Cosa c'è con il Chamber? E infatti... Eh... Che vuoi che ti dica? Alla piccola? Alla piccola? Ehi... E infatti è con me soprattutto E quindi? E vabbè in pazzi Sì sì Eh? Sapote i suoi compiti Ho finito l'assignamento Vuoi un po' di aiuto? Tu? Mi aiuti? Sì 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 Scusa, mi dispiace ma sono stata carina con te nell'altro e me ne sono pentita Non farò lo stesso errore Samantha Chi è Samantha? Parla con Samantha Chi sei? Ciao Ciao Samantha Oh, carino come libro Sì Vabbè puoi anche leggere per quanto tu vuoi Sì Non pensavo che hai fatto il lavoro Ma Normalmente non Ma il gioco è davvero buono E' cosa ti piaceva? Sì 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 Ehm Certo Ma Non ho capito qual è il problema con la gente rispetto a me Ehm Oh corre un pochino Yeah Andiamo ai tavoli da picnic Ma non perdiamo molto tempo con gente strana che mi dice cose strane Oh ciao Ehm 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 Grande che giocano a D&D Ehm Ehm Non è un Gioco da tavolo No Esatto Non è un gioco da tavolo È un GDR Certo Certo Ho il mio DVD? Un Blade Runner Sì Blade Runner Ficca Certo 5 bucks, certo? Sì 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 Uuuu Sì 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 Bene Bene Ehm Hey Do you know if Rachel is a gamer? Rachel Amber You're asking me? Didn't you two go out last night? Or was it Just like a friend Ma sono riuscita una volta Vabbè Sono curiosa What do you want to know? Esatto Oh oh Chloe You should drag on Yeah I don't have 50 hours right now Ma perché? E' bello We're at the end of the campaign So it'll only take like 20 minutes What else have you got to do for that? Non ho niente da fare Va bene Dai 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 Giochiamo dei ruolo Oh what the hell Game on nerds Ma non è un gioco dove si 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 Ecco Here's a character sheet You are an elfa barbara Ok No No Però vabbè I know I'm good All right Let's get started Bellissimo Bellissimo E' stato giocato in 2 di ruolo E' orribile Cioè proprio tristissimo Almeno in 3 Cioè già 3 sono pochissimi Almeno di solito io gioco in 4 o 5 Sì 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 Che sarebbe lui? Sregone è il terzo cerchio Primo consigliere di re Tiberius e custode del sacro di Avernon Avernon scusate Che bello È bellissimo Calamastria Sì Sì Grande Oh Sì Sì Ok 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 Ho fatto un kebab umano Ho rotto su Sì 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 Si va bene 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 tempo di prigionia facciamo i buoni Si poverino dai riberiamoli No Eh beh certo che ha le chiavi Si Ok Sì Eh i draghi sono delle figliette Si Si Ti faccio diventare più basso Ok Ok Tira fuori il tuo budel prende una chiave Eh Tira fuori il tuo budel Vediamo 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 Ok 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 Dai lancia 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 Che schifo Ok 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 Bene Ok 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 Ecco, ma ti metti passere cose veloce. Bene. Mamma mia, esagerato. Bene. Nooo. Facciamo aggiunti degli errori. Non ti preoccuparti, Alamon, ragazzo. Siamo tutti facciamati. Alamon? No. Alamastia, l'elf barbarian, è più vero e vero. Cosa è successo? È la tante. Non abbiamo preso il caso, ma non per culpa nostra. Mamma mia. Sì, è un enorme menotauro, dagli occhi rossi, è avvolto in un mantello nero di ottima fattura e che impugna una spara a due mani lunga. Un paio di metri la salisata suona quasi come un muggito. Muuhuhuhu. 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 Va bene, d'accordo. Così. Scalo di fuoco. Così. Nooooooo. Benissimo. Nooo. Eeeh, cerchiamo di ucciderlo. Rabbia è nientante. Sembra un bellissimo attacco. Nooooo. 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 Noooo. Ma se il ciclo sarà già su Nooo Ci siamo pazzati a piccini Nooo Questo gioco è fantastico Eh vabbè Oh shit Ma vabbè Eh può succedere E mi bravo che cosa E' più o meno eh E' più o meno eh Mi metto davanti a Elma Ok Ok dai Ok Esatto Dai picchiamo Dai ti prego No di nuovo Nooo 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 Così Eh Mira il braccio Il 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 Doente Sì Critico Sì Ok Ok Benissimo Bene 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 Noi ci siamo sacrificati Ma la partita E' andata Vai E' andata E' andata E' andata E' andata Oh povera calamastia Sì Sì Ok Più o meno Sì Ok Carino Si Molto divertente Mi piace un sacco E' bellissimo Peccato che sono solo in due E direi di concludere qua il video Mi sono divertita tantissimo A giocare a questo D&D E' stato bellissimo Soprattutto Chloe è stata magnifica E' stata bravissima E abbiamo spaccato da morire Anche se il nostro personaggio Purtroppo è deceduto Mi dispiace per la cara elfa Barbara Ma chi lo sa magari tornerà Magari in qualche vostra avventura Voi avete mai giocato di ruolo? Se non l'avete mai giocato Provate Convincete qualche amico Prendete un manuale Ci sono anche online E provate Mettetevi al tavolo E giocate E' veramente divertente Io ci gioco sempre Da che avevo 14 anni Almeno una volta a settimana Con i miei amici E' divertentissimo Mi piace davvero tantissimo Fatemi sapere qua sotto nei commenti Se avete mai giocato di ruolo Se vi piacerebbe provare Quali sono i vostri giochi di ruolo preferiti Fatemi sapere qualcosa Insomma Raccontatemi bene Io vi ringrazio Un bacio Un bacio gigante Alla prossima gente Nyan nyan Ciao Grazie a tutti.